Oggi possiamo vedere il vero volto di Ambrogio, del santo patrono di Milano. Infatti è stata fatta una ricostruzione facciale, scientifica, proprio su dati e analisi scientifiche, a cura del Labanoff, che è il noto laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Università di Milano. Tutto è nato tre anni fa, quando sono iniziate una serie di analisi, di studi sulle spoglie di Sant'Ambrogio, che come sappiamo riposano nella cripta della Basilica di Sant'Ambrogio e da queste analisi, da questi studi, sono partite anche delle ricerche proprio sul cranio, sul teschio di Sant'Ambrogio. Da qui l'idea è appunto di procedere con una ricostruzione facciale, che oggi è proprio realtà, su base quindi scientifica. A queste ricerche hanno contribuito anche degli ipovedenti, che hanno proprio dato il loro contributo per realizzare questo busto tattile, che ora verrà collocato nel sacello di San Vittore in Celdoro, cioè in un luogo estremamente significativo del complesso basilicale di Sant'Ambrogio, perché è proprio dove c'è il mosaico con l'effigie più antica, giunta fino a noi proprio, del vescovo Ambrogio. Questo mosaico straordinario, bellissimo, realizzato pochi anni dopo la morte di Ambrogio, Ambrogio muore nel 397, il mosaico appunto è degli inizi del V secolo, quindi quando i fedeli stessi avevano ancora ben presente il volto del loro amato pastore. Il confronto è assolutamente emozionante, certo manca la barba, mancano i capelli che non possono essere ricostruiti, ma diciamo la parte esterna, i tessuti molli invece, secondo proprio le ricerche attuali, secondo queste ricostruzioni facciali, forensi, possono essere appunto attendibili e quindi abbiamo il volto di Sant'Ambrogio proprio alla vigilia della sua festa. Tutto questo e molto altro ancora lo raccontiamo proprio su Milano 7, su Avvenire di questa domenica.